Partiamo dal partiere che indossare la voglia numero 30 che si chiama Salvatore Stili Partiamo dal partiere 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 che si chiama Salvatore Stili Partiere 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 Stili il numero 81, Giacomo Rastadori! Questi sono i nuovi acquisti, sono arrivati da poco, ma probabilmente hanno già un cuore absurdo. Ciao Napoli, grazie per l'accoglienza e vieni, lo teneremo insieme. Ciao, forse a Napoli sempre! Ciao Napoli, forse a Napoli sempre! Ciao Napoli, vengeremo per te. Ciao Napoli, lo teneremo per te. Ciao Napoli, lo teneremo per te, vai! Ciao Napoli, forse a Napoli sempre! C'è Napoli, grazie, lo teneremo insieme, lo teneremo per te. Grazie a Napoli, tutta la città!